Vogliamo annunciare un'iniziativa nuova su questo territorio. Voi sapete il problema della violenza sulle donne, del femminicidio. Io sono contro tutte le violenze, che siano giovani, donne, uomini, bianchi, neri, non è il problema. In ogni modo si parlerà del problema delle donne. Si chiama Abbracciami senza farmi male. Sarà a Torre di Mosto, sarà domani, giovedì, alle 20.30, al centro civico. Abbiamo qui ospite, per dire due parole, l'avvocato Luca Pavanetto, che sarà quello che darà il contributo da un punto di vista legale, assieme a uno psicologo, assieme ad altre persone. Ma lui ci dirà effettivamente la legge, come fa a difendere queste donne. Sì, è un fenomeno vastissimo, purtroppo, che ha un impatto sociale enorme e che va assolutamente affrontato, prima di tutto con un'informazione adeguata e secondariamente, ma non tanto, anche con una sensibilizzazione di tutte le parti in causa, in questioni di questo tipo. Quindi passa attraverso un team di professionisti o comunque di gente abituata a affrontare problemi di questo tipo, perché i numeri che riguardano la violenza alle donne sono numeri spaventosi in assoluta crescita. D'altronde, la cronaca ci suggerisce ogni mattina che basta aprire qualsiasi pagina di giornale elettronico o non per poter vedere, purtroppo, degli esecrabili atti di violenza commessi a carico di persone che non hanno alcun torto, se non quello forse di essere troppo buone e tolleranti. Bene, quindi vi invitiamo tutti, penso che sia una serata interessante che è organizzata da Diana Rettano, con i colori della vita, che è una situazione così di volontariato a favore di chi ha bisogno.